Il balletto delle mascherine gratis della regione toscana va avanti dopo il nuovo cambio di rotta da parte del governatore Rossi che ha deciso lo stop da lunedì alla distribuzione all'interno dei supermercati consentendo ai sindaci il porta a porta e alle farmacie di portare avanti l'attività già iniziata questa settimana. Mascherine gratis è questo il vero nodo della questione anche perché se per averle i cittadini non sborsano un centesimo la regione le paga e certamente non poco. Diverse sono le interrogazioni arrivate in consiglio regionale sul tema. Un milione e mezzo di mascherine distribuite al giorno anche se Rossi nel suo ultimo intervento ha parlato di due al costo di 55 centesimi l'una per un totale di 825 mila euro ogni 24 ore 25 milioni al mese. I dispositivi vengono realizzati in gran parte in Toscana, alcuni invece vengono da fuori e vengono confezionati poi in buste da 5. Il grosso del problema che si è verificato negli ultimi sette giorni, soprattutto nei supermercati, è stata la mancata registrazione di chi ha ritirato le mascherine. Di fatto c'è chi ne ha fatto incetta e chi è rimasto senza. 1200 invece le farmacie incaricate della distribuzione gratuita e da qui si ripartirà dal lunedì, anche se già la prossima settimana si terrà il consiglio regionale, ancora una volta in maniera virtuale, e la polemica si sposterà sul fronte politico.